Io però l'applauso lo faccio fare anche la Sè Maria Basanto, se voi non vuoi parlare con niente, però... Vieni, prendiamo insieme, porca... Come si riferisce a questa profitta così brutta? Cosa farete, Amato? No, niente, quanti non arriva e sicuramente quando arriva a pensare un po' però sono cose del calcio e ha vinto bene, ha lanciato il rigore benissimo, quindi sono finito da qui. Assolutamente lo siamo anche noi, io ho iniziato la nostra giornata, facciamo una domanda più tardi proprio così. Bene, bene, con un buon giorno.